Salve a tutti amici e benvenuti al meteo. Ancora una giornata dalle caratteristiche decisamente variabili, quella di giovedì sull'Abruzzo andrà decisamente meglio lungo la costa mentre a ridosso dei rilievi i soliti addensamenti cumuliformi nelle ore più calde della giornata potranno dar luogo a precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Le temperature resteranno pressoché stazionarie, i venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali ed il mare sarà generalmente poco mosso. Bene, per ora questo è tutto, arrivederci.